Stavo dicendo, Rox, prima che arrivassi tu, che io oggi pomeriggio mi sono visto, cioè prima di cena, mi sono visto l'episodio speciale di Natale dei Griffin su Disney+, che è uscito oggi, mi sembra. Eh, non l'ho visto, non l'ho visto. Allora, è ben lontano dai vecchi Griffin, quelli più pungenti, quelli più politicamente scorretti, però un paio di risate me le hanno tirate fuori, soprattutto sul finale. Perché c'erano alcune cose che sono saltate fuori, alcune vecchie battute che ho visto proprio quello stampo di Seth MacFarlane che utilizzava anche nelle prime stagioni, soprattutto non nelle primissime, ma a cavallo tra la quarta e la sesta, settima, ottava, comunque giù di lì. Perché secondo me è stato l'apice dei Griffin. Dopo, piano piano, sono andati a cominciare un po' a perdere quella loro verve, perché ci sono episodi che non sono particolarmente gradevoli, però ci sono alcune puntate che comunque si guardano ancora. Questo episodio di Natale non rientra tra i top, sicuramente, ma non rientra neanche nei flopponi giganteschi. Ma non ti piace? No, non mi è dispiaciuto, ma non mi ha entusiasmato più di tanto. Comunque, Rox, ti voglio far notare che Stewy, che è il bambino, quello piccolo, scrive la lettera a Babbo Natale, chiedendo a Babbo Natale la stessa camicia che ce la lascia la me, e poi gli ha legato la foto. Questo lo voglio vedere assolutamente. E poi non ti chiede, poi te l'impongo, poi non so che le marche sia, poi inizia a tirare fuori Balenciaga, però vedi tu la marca, però gli allega la foto alla letteria di Babbo Natale. È proprio l'inizio, con la foto di Tio e Tichalavè, è stato... Lì un paio di risate, la strappate, in alcuni punti verso la fine. Ecco, forse la storyline è divisa in due... di solito i puntati di Griffin sono divisi in due storyline, una principale e l'altra un po' secondaria. C'era la storyline di Peter, che deve recuperare la spilla. Ok, perfetto, 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 vedo, vedo, vedo. Buonasera Dave, buonasera. Ciao, io sono un po' di corsa. Comunque, stavo dicendo che di solito si dividono in due le storyline. La prima principale era quella di Peter, che deve recuperare la spilla di Lois, che lui aveva regalato al suo capo, quella spilla di Natale, e l'altra ovviamente è quella di Stewie, che scrive la lettera a Babbo Natale. Stewie è nella lista dei cattivi, perché ha cercato di uccidere sua madre, ha corrotto lo spazio-tempo, ha fatto un sacco di cose, e quindi Stewie vuole rientrare nella lista dei bambini buoni, e quindi elimina tutte le armi, bellissimo, quando va a buttare le armi nell'immondizia, proprio nell'immondizia a casa, butta tutte le armi, e poi con Brian comunque ci sono sempre queste cose esilaranti, queste situazioni. Diciamo che la storyline di Stewie era molto più interessante perché quella di Peter, a me non ha, ecco, forse la parte forse più debole, non mi ha entusiasmo, anche se sul finale si risolve in una maniera che io ho riso abbastanza, però è uno speciale appena sufficiente, non, non, adesso la Disney vuole, vuole portare, non l'ho visto quello di Halloween, che andrò a recuperare probabilmente nei prossimi giorni, però dai Griffin ha estrapolato due episodi speciali, uno di Halloween e uno di Natale, adesso vediamo se il prossimo anno ci ripeterà, ma questo di Natale sì, alcune cose sì, alcune cose no, io non sono stato particolarmente, i Griffin mi hanno entusiasmato ben oltre questo episodio natalissimo.